Ciao a tutti qui Superlopen777 e benvenuti in questo video finalmente di annuncio della finale Allora come potete vedere tra lo scontro, cioè nello scontro tra il nostro Lorenzo Milan e Andrea Cagnoli La spuntata è il primo, quindi Lorenzo Milan e quindi abbiamo il secondo finalista, già dall'altra parte avevamo il numero 3 Thomas Ballarini E quindi abbiamo trovato lo sfidante, loro due si contenderanno il titolo di vincitore, quindi abbiamo il numero 24 Lorenzo Milan contro il numero 3 Thomas Ballarini, lo ricordo In descrizione troverete i dati relativi al vostro sfidante, quindi ricordate di guardarli sotto se ancora non li avete presi E niente, questo era un video davvero molto breve perché questo era il succo del video Spero di vedere una bella finale e noi ci vediamo poi con i video delle lotte del torneo